Qualche anno fa gestivo il Teatro allo Scalo nel quartiere di San Lorenzo a Roma e mi contattò una signora che lavorava con i bambini. Scriveva delle favole, si faceva chiamare la fata lucente, Morgana, non lo so, insomma, aveva un suo nome d'arte, scriveva le favole e niente, lei è una fata e si presenta al colloquio, al teatro e mi racconta tutta quanta la sua storia. Chiaramente non è una fata, è una signora normalissima, minuta, molto appassionata di favole, di scrittura, di bambini, mi raccontava il suo rapporto con le classi, raccontando le favole ai bambini come riescono a lavorare, di immaginario, di fantasia e devo dire che per mezz'ora mi ha appassionato al discorso in maniera poi anche abbastanza difficile da gestire per me, che dovevo gestire compagnie diverse, situazioni di vario tipo e diciamo è stata una mezz'ora impegnativa per un discorso che poi non è che mi appartenga tantissimo, nel senso che io non lavoro granché con i bambini. Però mi interessava molto il suo progetto e il modo in cui lo sviluppava, era molto credibile in quello che raccontava, era veramente appassionata di favole, mi ne ha raccontate un paio di quelle che ha scritto, insomma, era totalmente immedesimata in questa condizione sua di fata, morgana, non mi ricordo come. Vabbè, insomma, finisce il nostro colloquio, devo dire che mi aveva fatto una buona impressione e l'accompagno all'uscita, la faccio uscire dal teatro, lei attraversa la strada, io mi giro, mi volto di nuovo verso di lei e mentre attraversava la strada, l'altra parte, praticamente si è staccata da terra, io l'ho vista che volava, camminava penso 40-50 centimetri da terra e io cercavo qualcuno intorno che la vedesse, non camminava a terra, è andata velocissimo, non è vero, insomma, stavo a San Lorenzo, noturiamente è un quartiere in cui c'è spaccio, ma giuro che non fumo, eppure l'ho vista staccarsi da terra. Ora, era talmente forte il suo immaginario che io sono stato catturato da questa cosa e l'ho vista volare, ho visto una persona che volava e questo è lavorare sulla credenza, sulla credibilità e crederci fino in fondo, immedesimarsi tanto che gli altri ti vedono volare. Non lo so che cosa è successo, non lo so che cosa ha fatto in quel momento, però se un giudice mi dice lei ha visto quella signora volare? Sì. L'immaginario fa brutti scherzi. Però rende grandi attori.